Adesso è caccia al DNA di Federico Ferrini sulla corda del delitto, quella con la quale il giovane avrebbe ucciso lo scorso 26 agosto Maria Venasio de Sousa nell'appartamento di Via della Robbia. E' questa l'ultima richiesta del legale del casentinese Reo Confesso. Secondo la difesa dell'uomo che ha già nominato i suoi periti all'interno dell'abitazione nel quale si è consumato l'omicidio e nei reperti inizialmente analizzati, infatti non sarebbe emersa nessuna traccia di Ferrini. Il DNA della vittima invece non sarebbe stato trovato né sui vestiti dell'uomo comunque lavati dopo il delitto né nella sua automobile passata al setaccio dalla scientifica. Secondo il legale adesso quindi è necessario capire meglio quanto accaduto quella drammatica notte. Federico Ferrini prima negli uffici della mobile e poi di fronte al GIP Fabio Lombardo aveva confessato di aver colpito la donna con una spranga e di averla poi legata con un nastro a letto. La difesa che lo scorso 15 novembre aveva effettuato un sopralluogo nell'appartamento di Via della Robbia adesso chiede così nuovi esami del DNA su alcuni reperti, tra questi appunto la cordicella che fu trovata legata al collo della vittima. Nei prossimi giorni dovrebbe essere infine depositata la relazione dell'equip di medicina legale dell'Università di Siena che ha eseguito l'autopsia sul corpo della donna, un esito particolarmente atteso dalla difesa secondo la quale i colpi alla testa potrebbero non aver procurato fratture mortali.